La fabbrica di Michi non è un semplice comitato elettorale, ma uno spazio diverso, attivo e creativo. Volontari di tutta la Puglia attivano un processo di rete e partecipazione. Idee, proposte, informazioni e contenuti di ogni genere nascono e si diffondono vorticosamente per tutta la regione, attraverso il web e le azioni sul territorio. Così, attraverso questo luogo fisico e virtuale, raccontiamo a tutti perché è importante rileggere Michi Vendola. Ogni comune della regione può avere la sua fabbrica. Quella di Bari coordina e pianifica l'intera campagna elettorale, mette in rete tutte le fabbriche sul territorio, gestisce tutti i contenuti e offre gli strumenti necessari a sviluppare una campagna coordinata nelle immagini e nelle slogan. Se decidi di aprire una sede, comunicalo all'indirizzo fabbrica-nichivendola.it indicando il tuo paese, l'indirizzo, il nome di un referente e i contatti. O cerca su Facebook il profilo La Fabbrica di Michi, dove potrai richiedere informazioni sulle fabbriche già esistenti. Nella sezione dedicata alla fabbrica, su www.nichivendola.it, abbiamo pubblicato un elenco di consigli per costruire la fabbrica perfetta. Tutte le iniziative saranno comunicate sulla fanpage La Fabbrica di Michi e all'indirizzo email fabbrica-nichivendola.it.